Il principe Ferri e Meghan Markle sono rimasti in gran parte in silenzio e fuori dagli occhi del pubblico dall'uscita del libro di memoria del duca a gennaio. Il principe Ferri e Meghan Markle hanno sottovalutato il contraccolpo che hanno ricevuto dal libro di memoria del duca Speer, motivo per cui probabilmente hanno mantenuto il silenzio da allora, ha affermato un esperto reale. Il duca e la duchessa del Sussex hanno recitato nella loro serie di documentari in sei parti su Netflix, che li ha visti sfogare la loro frustrazione per la vita nella famiglia reale. Ferri, è poi apparso in una serie di interviste televisive prima del rilascio di Speer, che lo hanno visto prendere diversi colpi ai membri della sua stessa famiglia. Ha visto i Sussex alla fine di un enorme contraccolpo da parte di molti. Sono rimasti in gran parte pubblicamente in silenzio dall'uscita di Speer, e sono stati fotografati insieme solo in poche occasioni. L'autrice reale Pauline McLaren, professoressa di marketing e ricerca sui consumatori presso la Royal Holloway University di Londra, ritiene che il contraccolpo che hanno ricevuto dopo Speer abbia portato al loro silenzio radiofonico. Ha detto al Daily Express US. Probabilmente hanno sottovalutato il contraccolpo, in particolare nei confronti del libro di Ferri. La gente l'ha letto e sebbene fosse un best-seller, non lo ha davvero promosso a livelli elevati in termini di persone che gli hanno dato riconoscimenti immagino che tutto ciò li avrebbe scioccati, ma si presume che si siano ritirati. Probabilmente si sono ritirati al punto che qualsiasi cosa dicano verrà criticata e distorta. Il professor McLaren ha anche esortato i Sussex a fare un cambio di direzione dopo che il furore delle loro rivendicazioni contro la famiglia reale, ha innescato un momento decisivo.